L'associazione Nonomino dopo molto tempo, diciamo con le porte chiuse, finalmente riapre i servizi. È stato veramente un lavoro molto difficile, perché chiaramente siamo un'associazione di volontariato, però con costanza, con decisione e con forza, perché le parole servono poco, ma ci vogliono veramente azioni sul territorio, siamo riusciti ad aprire i nostri servizi. I servizi sono attivi a Montecchio di Vallefoglia, con un orario da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Poi abbiamo riattivato, nel servizio di Montecchio si chiama il Giardino delle Emozioni, abbiamo riattivato Casa delle Vigne, in Urbino, il lunedì, giovedì, venerdì, dalle 9 alle 12. E poi abbiamo proprio, diciamo, inaugurato Rio Salso, di Tavuglia, è uguale, che si chiama Casa Frusaglia, ed è aperto dalle 9 alle 12, da lunedì al venerdì. E come ho detto, questo è veramente stato un lungo lavoro, ma in rete, in rete con il distretto di Pesero, col distretto di Urbino e con l'ATS numero 1. Quindi abbiamo aperto veramente con tutte le precauzioni possibili, abbiamo sanificato i locali, tamponi per gli operatori, cioè veramente abbiamo fatto tutto e più, ecco. Vediamo veramente, speriamo veramente che di poterli mandare avanti i servizi, il numero degli operatori volontari è rimasto lo stesso, e abbiamo dimezzato, chiaramente, per problemi, insomma, di dimetratura all'interno dei locali. Siamo veramente molto contenti, perché non vedo servizi aperti sul territorio, questa cosa mi dispiace tantissimo. Io penso che se una persona veramente ha come scopo la solidarietà umana, possiamo fare veramente tanto. Noi l'abbiamo dimostrato con azioni pratiche, poche parole, ma riaprono i servizi. Penso che questo sia veramente un messaggio molto importante. Volevo inoltre dire alcune novità, ultime novità. Noi abbiamo cominciato anche dei lavori in una struttura Pesaro, grazie al prezioso, proprio fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dell'amministrazione, tutta l'amministrazione comunale di Pesaro. È una struttura, quindi ospiterà anziani, anziani fragili, e abbiamo già iniziato i lavori, quindi speriamo che nel giro di pochi mesi possiamo anche dare una risposta concreta anche alla città di Pesaro. Un altro, poi un altro servizio, per ultimo, Monte Calvo in Foglia, uguale, e avremo uno spazio di 300 metri quadri, e sono gli ex spazi delle materne, delle scuole materne, e quindi anche nel comune di Monte Calvo attiveremo un percorso virtuoso sia con l'amministrazione sia con i cittadini. Insomma, noi ci crediamo molto alla solidarietà umana e spero che non sia solo un sogno dell'Associazione Nonomino. Ci sarà anche a breve una inaugurazione qui a Montecchio di Vallefoglia, perché abbiamo fatto un murales veramente bello da un artista che lavora al Teatro Rossini di Pesaro, quindi veramente, diciamo, un disegno egregio, e quindi ci sarà una inaugurazione. Volevo ricordare inoltre che all'interno della nostra associazione prestano veramente volontariato 30 figure, e la maggior parte professionali, e quindi, diciamo, è un volontariato un po' professionale, nel senso che i volontari o sono formati oppure sono proprio figure professionali. In maggior parte sono psicologi, educatori, c'è l'insegnante di ginnastica, il musicoterapeuta. All'interno dei servizi ricordo che sono tutte attività che servono all'anziano fragile proprio per mantenere le attività di vita quotidiana, di vita e strumentali di vita quotidiana. E quindi cerchiamo di mantenere il suo benessere e soprattutto di tenerlo il più possibile autosufficiente. Crediamo molto nell'inclusione sociale e quindi sono servizi molto inclusivi, perché noi operiamo tanto sul territorio, quindi, insomma, cerchiamo il più possibile che la persona rimanga nel proprio contesto sociale, familiare e di appartenenza. E questa è la motivazione, perché in ogni comune dove andiamo, praticamente cerchiamo di aprire un servizio, proprio perché l'anziano deve rimanere a casa propria, però gli viene data la possibilità anche di integrarsi proprio nel suo contesto sociale, proprio nella sua comunità.